La RAI, a Radio Televisione Italiana, presenta... Giacomo legge, un discorso di Renzi che cerca di parlare inglese ma non ci riesce. E comunque non si era preparato neanche tanto bene. Voglio dire, non dico il discorso, ma almeno le date. Meucci, is a very good Italia. Ma disolso, a terrible history. Perché Meucci è il reale inventore del telefono. Mi dico con gli americani presenti qui, ma anche il Congresso degli Stati Uniti in 2000... Non mi ricorda. Recognizzato il founder, l'inventore del telefono è Antonio Meucci. Antonio Meucci è un uomo incredibile per il reale tempo. He lavorato nel teatro, il più antico teatro in Europa, il Teatro della Pergola. E era un walker. E era un walker. E aveva inventato il telefono... Inventato il telefono per parlare in teatro. Ma cilio. Cilio. So, for a... For a few reason... For a few reason he left Italy. He left Italy. And he wasn't able to use the copyright lessons... Come se dice il brevetto? License. 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 And in 1871... In 1871, 1873... I didn't remember. So Bell arrived. Arrived. And in the history... He was the founder... And the inventor... Of the telephone. Grazie mille. Nella stessa collana sono presenti... Rutelli, Welcome to Italy... Fassino parla inglese... E Berlusconi parla inglese... E viene deriso da Bush. Collezionali tutti. And that is the first person! Incredibile. All the days... Per77. In 1922, it's about Or, but feel... So du... Grazie a tutti